Giuro di non comprarle più, poi eccole una nel freezer e niente, adesso lo assaggiamo. Cameo, ristorante, pizza al salame. Per giustificarmi posso dire che piove da tre giorni, non c'è più cibo in casa o questo o la morte per fame. Apriamola, guardiamola insieme. Mamma mia, apro. C'è, c'è. Ho acceso il forno, non vedo l'ora di godermi di questa meraviglia culinaria. Forno caldo e lercio, sì, prima o poi lo laverò come prima o poi non sarò oggi. Non resta che aspettare per 10-12 minuti. La faccia sconsolata di chissà che sta per mangiare una cosa super calorica che non riempirà un cazzo. Se non altro non c'è particolare differenza tra l'aspetto della scatola e la realtà. L'aspetto del salame non è particolarmente invitante. Metodo cobra per tagliare la pizza. Ah, schiante. Che dire. Non so perché non si stiano tanto a chiamarla a pizza. Non potrebbero trovare un altro nome. Sì, non c'entra nulla con la pizza. Ma, non come perché c'erano sempre queste verde. Le fanno schifo ma sono buone. Non è pizza. Cos'è non lo so. Ora non cominciate a dire che bisogna metterci sopra l'altra roba. Perché una pizza di queste se me la fossi mettata tutta da sola. Erono quasi 900 calorie di grissino con niente. Cioè, non si può metterci sopra, sopra. Allora fatevi un panino. Se la fanno in casa è più buona. Eh, grazie a cazzo. In pizzeria la fanno meglio. Le pizzerie di qua non la fanno neanche meglio. Allora... Eh, ma perché ti mangi queste schifette? Se sai cucinare così bene. Perché mi piacciono. Di la verità. Piova da tre giorni e non si può fare la spesa. Questo ti avevo detto. Questi all'unica. All'unica. L'ho comprata in un giorno di sole io questa. Ah, vabbè, certo. E poi a me la felispazione è mangiare la merda dopo la palestra. È una cosa che mi è sempre piaciuta. Ok. Non devi scrivere in palestra per apprezzare. Dopo tutto il contrario. No, invece di mangiarti il riso sano. No, cibo e l'aggettivo. Sempre che hai la soddisfazione. Ma come fai a essere calorica? Cioè, se aggiungono... E' l'olio. Non lo so cosa ci mettono per esempio di colori. Non c'è niente sopra. Il salame è quanto riguarda? Non c'è neanche l'impatto. Hai detto quanto pesa? Tutta la pizza è 900 calorie. Eh, quante che pesava? 320 grammi. 300 grammi. Mi sento che una pizzeria... Una pizza, non so, 1200. No, è una pizza, non si riempie. Sì. Qua di ingredienti, c'è il minimo, mi dispensavo per dare un colore. Salame se 20-30 grammi, non so, 40. Ma cosa sta esagerando? Non lo so. Oh, il sole e il thread è calorico. Ma che peccato. L'ultimo ventetto. Che spiacere. Tanto che è ancora bollente la parte salanata. Dovevamo farlo nella frigidificità. Come se la friggi, non ci metti la nutella sopra, se la metti in frigo. L'ultimo pezzetto. Mi piace un pezzo di riso per riempirmi la pancia. Riempito. Tornerà al bel tempo i giustini. Non compratela. Non compratela. Non mangiatela. Meglio la fame.